Grazie a tutti Non sono uccidini, sono detriti quelli Siamo su casa 306 a Crotone dove c'è appena stata una tromba d'aria Questi sono i danni causati Siamo nella zona dell'Unieur Andiamo avanti per vedere cosa è successo Ci sono i vici del fuoco che stanno intervenendo Ci dovrebbe essere diversi anche feriti Ecco qua vedete cosa è capitato L'auto letteralmente sollevate la terra E' veramente terrificante Sì, sì, tranquillo Senza entrare Sì, sì, ho capito Ma è un marcaro a un uomo come se mi ha messi a arrestare No, no, non so È completamente stato distrutto tutto È durato pochissimi secondi Guardate in questa macchina Guardate in questa macchina cos'è Come è entrato Vedete? È terribile perché c'era il seggiolino del bambino Pensate se ci fosse stato il bambino Terribile Continuiamo questa diretta Qui c'è veramente un caos Vediamo anche La gente si è chiusa La gente si è chiusa Ci dicono dall'ANAS in questo momento Vedete? Tutto finito Veramente pericoloso Anche stare qui Guardate, queste erano le insegne I balli della luce Allora, ho visto prima il collega C'è un testo